Al di là delle qualità tecniche messe in campo oggi, la squadra dimostra così anche grande forza dal punto di vista caratteriale. Siamo ai titoli di coda. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Sono io che ringrazio te Fabio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.